Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Napoli 1926, per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, Juventus PSV è in 2-3-1, Milan Liverpool 1-3, lo andiamo a analizzare in questo momento. Detto questo, iscrivetevi al canale, è gratis. In descrizione, gruppo Telegram con notizie H24 sul Napoli. Detto questo, partiamo subito perché non vorrei fare un video di 20 minuti come questa mattina che ha fatto uno video di 10 minuti, poi ha fatto i loro fanno da calcio, altri 12 minuti, una cosa più soft. Allora, signori, partiamo dalla Juventus perché è la prima che ha giocato, ore 18.45, una buonissima, una buonissima Juventus e in vista di Juventus-Napoli questi lanciano un segnale molto forte al Napoli dicendo Noi siamo qui, vi aspettiamo allo Juventus Stadium, anzi, all'Allianz Stadium, scusate, si chiama Allianz Stadium visto che non c'hanno più lo sponsor, non lo so. Ah boh, allo Stadium, diciamo così, per la partita di sabato pomeriggio alle ore 18. Ecco, Yildiz, vaiù? Io i capelli non ce li ho ma quello sarebbe stata da mettersi le mani nei capelli, io a massimo a me posso mettere in da barb le mani. E' qualcosa di allucinante, Yildiz ha fatto un gol della madonna, scusatemi la parola, ma è veramente un euro-goal, veramente tanta roba. Vlaovic ha un gol a secco, questo ecco, questa è una cosa che potrebbe far storcere il naso a molti tifosi juventini, ma ragazzi questa sera si è vista una Juventus preparata sul piano del gioco. Cambia il modulo se non sbaglio perché gioca con il 2-1 lì davanti, con Nico e Koppmeiners dietro la linea, dietro la linea che sarebbe Vlaovic lì davanti. Ragazzi, qui sta nascendo una cosa molto grave, Douglas Luiz, tanti soldi, lo preferisce a McKennie, McKennie che trova anche il gol? Io non lo so cosa ci abbia visto giuntoli, io già ve lo dissi però, guardate che questa operazione David Luiz è stata fatta perché il proprietario del Newcastle, date chi da cavolo l'avete preso dalla Stoneville, non mi ricordo nemmeno, è in società Exor con Agnelli, sapeva del fair play finanziario della loro società e quindi hanno detto fai una cosa, prenditelo tu e poi ce ne liberiamo noi e lo pagate voi. Così sta succedendo, perché questo giocatore che doveva essere titolare inamovibile della Juventus di Tiago Motta, ragazzi, questo non gioca, gioca spezzoni di partita, io non so come mai, addirittura ne preferisce McKennie allo stesso David Luiz ed è clamoroso, ed è veramente, veramente clamoroso. Poi vabbè, segna pure Nico Gonzalez e poi la Juve incredibilmente chiappa gol, il primo gol della stagione, quindi la Juventus resetta il tutto in campionato, nei top 5 campionati è ancora imbattuta, è ancora a rete inviolate, scusatemi, quindi resiste questo record della Juventus. Io ho detto, ho mandato un messaggio al Doc, al Dr. Juve, ho detto, Doc, però porco due, agli ultimi secondi vi chiappate gol all'ultimo secondo? E così non vale, perché se no il Napoli, ora che vi ne pianta 4, vi siete già abituati, invece era bello, non abbiamo mai preso gol, ve ne chiappammo 4-5. Chi sta scherzando, il Doc lo sa che io scherzo. Passiamo un attimo al Milan ora, passiamo al Milan e ragazzi, io fossi tifoso del Milan, non sarei tanto incazzato per la sconfitta, sono sincero, io sarei più incazzato per come è arrivata la sconfitta. Il Milan gioca i primi 15 minuti, li fa anche bene, li fa benissimo, pressing alto, pressing costante, velocità di gioco, trova il vantaggio subito con Pulisic. Ecco, cosa succede dopo? Arriva la traversa di Salah e il Milan scompare dal campo. Si inizia a chiudere in difesa, cose che tu non devi mai fare con squadre inglesi, chiuderti dietro. Se te ti vai a chiudere dietro con le squadre inglesi, tu già lo sai che morirai, ti faranno patire come il mondo. Tu hai segnato il secondo minuto, bello ruffrata. Ah, altra cosa, questa sconfitta è anche merito di Magnanna, questo lo dobbiamo dire. Perché signorino Magnanna, se al quinto minuto ti sei fatto male e rischi di continuare a farti del male, perché poi nel secondo tempo il signorino è uscito con la maglietta così, per la disperazione perché stava piangendo, significa allora che te dovevi uscire al quinto minuto, dovevi fare entrare il ragazzino, ma non c'è nessun problema se entrare il ragazzino, vaiù, è meglio perdere con il ragazzino in campo, è meglio perdere con il ragazzino di 19 anni in campo e non fare quelle figure di merda che hai fatto te. Hai fatto due uscite, anzi, sul primo gol vaiù fa un'uscita pessima, ma pessima, pessima, proprio da dilettante vaiù, come se fosse uno che ha in piena iniziato a giocare a calcio. Sul secondo gol di Van Dijk, cioè tu non esci nemmeno, nemmeno ci prova ad uscire, rimane piantato sulla linea di porta, poi si fa male e poi arriverà il 3-1 del Liverpool. C'è stato questo episodio, io non l'ho ben capito, ragazzi, ma era calcio di rigore o c'era fallo prima? Cioè io è questo che non riesco a capire. Fischi la simulazione di Morata, ma c'è un tocco di mano, c'è un fallo di mano su quell'azione del difensore del Liverpool, va bene che il braccio è attaccato, ma quello è rigore? Io non ho capito, vaiù, questa cosa del VAR, non VAR, deve essere, si deve capire, fate come fanno in, se non sbaglio, dov'è, in America, che il VAR è collegato allo stadio, così tutti capiscono cosa cazzo è fischiato. Comunque, detto questo, la Juventus, vaiù, si prende i primi tre punti di questa nuova Champions League, il Milan rimane a secco, a zero. Ora, naturalmente la Juve gioca col PSV in dove, non è che ha giocato con il Liverpool, con il City, cosa che domani lo farà l'Inter, e domani mi aspetto un partitone da parte dell'Inter di Inzaghi, eh. Non ti dico la vittoria, però il pareggio lo può strappare, secondo me, a Manchester. Però staremo a vedere. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a Juve, noi ci becchiamo domani. Ciao a Juve, noi ci becchiamo domani.